Mister dopo la partita di Cagliari lei aveva detto questa partita ci servirà da insegnamento quali sono gli insegnamenti che avete tratto da quel secondo tempo e come vi siete preparati in settimana? Perché insegnamento? Perché noi venivamo in ogni caso da cinque partite dove avevi subito solo un gol su rigore l'insegnamento è che non viene automatico il fatto di non prendere gol ma passa attraverso un'intensità fisica ma anche mentale che ti permette di non concedere opportunità quello che ci ha detto da partita di Cagliari che magari nel primo tempo abbiamo fatto anche degli sviluppi molto interessanti per il tipo di avversario, per il fatto che siamo fuori casa e per la qualità proprio che abbiamo messo nelle giocate però se poi vai a perdere quella che è lo spirito nostro, l'intensità nostra non va bene perché poi dopo concedi campo e concedi talmente tante occasioni che appunto in cinque partite prima non avevi mai fatto allora cosa intendo io per l'intensità fisica e mentale? L'intensità fisica è quella che ti permette di aver gamba, di andare a prendere, di giocare alti, di vincere duelli quindi l'intensità mentale è quella che quando invece queste cose non ti vengono ti abbassi magari perché non è un disonore e giochi compatto come magari è stata la partita i 20 minuti di Parma o certi altri momenti di certe altre partite in quel momento l'intensità mentale ti fa vivere meglio ancora di più i duelli ti fa togliere i rischi, cosa che invece nella partita di Cagliari i rischi non li abbiamo più visti a un certo momento e quindi è questo quello che intendo io, la capacità nel corso della partita di leggere più partite e saperti adattare a quello che capita poi anche sta a basso ma se tu rimani nel 2-1 fino alla fine magari crei quella situazione all'ultimo o prima, non è che per forza all'ultimo, che ti crea ma se tu vai poi a prendere nel 3 o 4, logico che la partita è chiusa là e non c'è più storia e allora questa è una questione proprio di lettura e di atteggiamento mentale sul quale noi già prima ci avevamo lavorato e forse in questa partita al primo tempo ci ha fatto un po' dimenticare invece per fare il calcio che vogliamo far noi non possiamo non fare le cose che dobbiamo far noi Domani arriva il Del Duca e il Venezia quali insidie nasconde questa partita? perché è chiaro che a poche partite dalla fine del campionato tutti sono alla ricerca di punti tutti sono alla ricerca di punti noi dobbiamo guardare la distanza che ci separa del Venezia e mantenerla se è possibile aumentarla anche e quindi contro una squadra che in ogni caso ha una struttura di rosa che retrocede dalla Serie A, quindi importante che fa anche una buona fase di sviluppo che muove bene la palla e quindi che ti richiede ricollegandomi a quello che abbiamo detto prima una grande attenzione e una grande capacità di leggere le fasi però è anche vero che noi dobbiamo fare le nostre cose a 3.000 all'ora abbiamo fatto una settimana secondo me buona credo che a Cagliari un pochino abbiamo anche pagato le quattro partite ravvicinate perché noi più di altri abbiamo fatto partite non con la settimana piena perché abbiamo giocato i mercoledì e i venerdì e quindi questa settimana siamo tornati a lavorare normalmente e dobbiamo riprendere il nostro percorso e la nostra propria voglia di fare punti che dobbiamo mettere prima di ogni cosa Il gruppo giustamente è focalizzato sulla partita di domani dopo la sosta ci sarà anche il Brescia in casa due partite che potrebbero indirizzare un'intera stagione c'è consapevolezza di questo? C'è consapevolezza che sono due partite importantissime anche senza forse le più importanti della stagione però noi ragioniamo una alla volta ragioniamo col Venezia e concentriamo tutte le nostre energie sul Venezia e poi dopo quella dopo ci investiremo la settimana quando verrà però questa sicuramente è una partita che dobbiamo fare a 3.000 e con una grande voglia di portare a casa a quel punto possibile Rientra dalla squalifica Falasco come stanno gli altri? Come sta Forte? Ma come stanno anche Neore, Bellucci, Proia? Insomma chi recupera? Forte sta bene Proia è ritornato in gruppo già da più giorni e gli altri È convocato quindi Proia? È convocato sì e gli altri sono più di lunga decenza però su queste cose a me piace che ne parli più lo staff medico perché sui tempi di recupero cioè non è il mio lavoro ho un massimo rispetto e fiducia appunto dello staff medico quindi penso che siano loro a dire sugli infortunati sempre quando sono i tempi io posso dire quando sono rientrati tipo Proia o tipo a Giappone la settimana scorsa che ha fatto un'altra settimana in più con noi però nel momento in cui sono fuori non è meglio è giusto che parli chi è responsabile del settore sanitario Dionisi è pronto fisicamente per partire dal primo minuto o lo considera più utile magari a gara in corso? Come sta fisicamente? Ormai è un bel po' che lavora con noi ha fatto tante partite in corsa però anche si è allenato sempre quindi secondo me può sicuramente che partire dall'inizio e dopo le scelte sono in base a uno come vuole impostare la partita credo che tutti i nostri attaccanti possano iniziare ad essere in corsa perché hanno belle caratteristiche e l'hanno dimostrato sia dall'inizio e sia anche quando sono stati chiamati in causa Lascao li vanta una media di un punto a partita in 14 match disputati del Duca a 12 le reti realizzate crede che il miglioramento del rendimento interno possa passare principalmente per uno sviluppo più incisivo e qualitativo della manovra offensiva? Certamente lo sviluppo io analizzo le tre partite che ho fatto io in casa dove c'è una sconfitta una vittoria e un pareggio quindi siamo in media più o meno con i punti là l'idea di migliorare lo sviluppo ce l'abbiamo avuta perché se guardiamo con il Bari il primo tempo con il Cagliari che sarà fuori casa è un nostro obiettivo perché è giusto andare a sicuramente a sfruttare delle qualità tecniche che abbiamo e che vanno messe in campo sul discorso oltre a questo dobbiamo aumentare secondo me la voglia di fare gol a dià dello sviluppo perché tante volte il gol non viene fuori solo per lo sviluppo ma io ho fatto vedere ragazzi per esempio i sette gol che ha fatto il Manchester City in Champions hanno fatto sette gol partendo dal basso l'azione perché ti aspetti invece quattro sono mischie cioè non è che si fa solo con lo sviluppo anzi se uno percentualmente tu devi volerlo il gol se guardi i gol di Allan uno è un rigore tre sono respinte in aria quindi è quel tipo di mentalità che dobbiamo fare più nostra e non solo da parte degli attaccanti ma da parte anche dei centrocampisti dei difensori quando andiamo in palline attive io credo che abbiamo veramente tanti margini di miglioramento ma passa molto anche dalla mentalità e dagli obiettivi che ci mettiamo dentro qua non sto parlando dicendo che dipende solo dai ragazzi dipende anche dal lavoro che facciamo in settimana e da come io riesco a trasferirlo questa mia convinzione però vedo che in allenamento c'è questo desiderio ci stiamo lavorando nelle partite in casa tornando alla domanda con varie occasioni il primo tempo ne abbiamo creati un in meno con una squadra che va in vantaggio un pochino e che cerca di addormentare la partita diventa più difficile col benevento secondo me non mi ricordo i tiri che abbiamo fatto ma abbiamo fatto una trentina di tiri quindi anche là a dià dei tiri dello sviluppo è la concretezza nel determinare che dobbiamo ancora di più aumentare ultima domanda da parte di un giornalista di un quotidiano locale riguarda Franzolini quindi esula dalla partita di domani a giugno scadrà il contratto di Franzolini pare non ci sia l'accordo per il rinnovo scrive il giornalista è uno dei migliori profili del vivaio il mister cosa ne pensa tecnicamente dato che l'ho visto spesso all'opera in prima squadra e se è un profilo su cui punterebbe in futuro allora partendo dal presupposto che Franzolini sono tre ragazzi che salivano sempre con noi e tutti tre bravi su queste dinamiche però io credo che uno che sta qua da un mese fa fatica a mettere il becco e anche perché appunto sono un po' i compiti che rispettano se la società e non ma come non so neanche da prima squadra chi è in scadenza o no cioè non è questo discorso i tre ragazzi si stanno comportando molto bene però dopo ci sono delle dinamiche e dei tempi anche penso che dipendono dalle strategie societarie e da tante cose e sono convinto che in questo momento come è giusto che sia le attenzioni di tutti noi quindi anche le società sono più prese dal campionato nostro e da come e soprattutto come abbiamo detto prima da queste due partite le nostre attenzioni sono là poi sul resto appunto in un momento vecchio perché non perché non voglio fare forza filata ci mancherebbe proprio perché sono dinamiche che non conosco e sui quali non voglio entrare grazie grazie